Disaggi segnalati nelle aule della scuola media di Cardinale, interviene la minoranza consigliare. Dopo le segnalazioni di disaggi nelle aule della scuola media di Cardinale da parte dei genitori, degli alunni, ricevuti comunque mercoledì dal sindaco Danilo Tagliano, si muovono anche i consiglieri di minoranza Giuseppe Marra, Catiù Sciamazza ed Ivan Posca, con due distinte note. Con la prima indirizzata all'Unità Operativa Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'ASP di Catanzaro, chiedono, è scritto, in via d'urgenza un sopralluogo, poiché secondo i consiglieri l'edificio non risulterebbe idoneo all'utilizzo per evidenti infiltrazioni d'acqua, assenza di riscaldamenti, presenza costante di rumori dovuti alla ricostruzione dell'edificio attivo e perché, scrivono ancora i tre consiglieri, gli alunni ed il corpo docente per entrare nell'edificio devono utilizzare l'ingresso riservato alle uscite d'emergenza, con evidente violazione della normativa in materia di sicurezza. Da aggiungere che anche sulla diecente grande palestra sono in corso lavori di adeguamento sismico che hanno visto già la demolizione di alcune pareti. Per i lavori di adeguamento sismico invece del corpo B dello stesso edificio, che prevedono demolizione e ricostruzione della struttura, gli stessi consiglieri con la seconda nota si rivolgono invece al Presidente della Giunta regionale e dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria. Con diverse missive che si allegano, scrivono ancora Marra, Mazza e Posca, segnalavamo che l'amministrazione comunale procedeva alla demolizione dell'edificio scolastico ricadente nelle aree a rischio di inondazione R4. La situazione veniva più volte segnalata al Dipartimento competente senza esito alcuno. Chiediamo agli organi in indirizzo, concludono i tre consiglieri di minoranza, di intervenire nell'immediatezza al fine di riportare la situazione citata nel rispetto della normativa in materia di rischio idrogeologico, chiedendo inoltre accesso agli atti al fine di verificare le iniziative intraprese dalla Regione Calabria a seguito della segnalazione di avvio lavori. Tutte e due le note sono state inviate anche al prefetto di Catanzaro. C'è da aggiungere che più volte anche in Consiglio Comunale si è discusso della scelta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Sagnanò di far demolire questa parte dello storico edificio delle scuole di Viale Roma per adeguarla sismicamente, mentre una parte, pressoché uguale con la passata amministrazione guidata invece allora dal sindaco Pino Marra, era stata adeguata senza alcuna demolizione. Secondo la minoranza, una volta demolita la struttura, non potrà più essere ricostruita, secondo le normative imposte dal piano di assetto idrogeologico. Di parere naturalmente nettamente opposto la maggioranza, secondo la quale invece verrà realizzata una struttura moderna, sicura e più funzionale. Per Teleionio Bruno Cirillo.